buongiorno a tutti ragazzi quindi oggi sono malattissimo sono veramente malato penso di avere la febbre ho già preso due medicine a che giornata ragazzi anche nicole anche nicole non è prendita in forma e quindi siamo proprio fortunati praticamente ad arrivare al suo punto con domani trasloco essere malati io nicole i bambini stanno meglio ma io nicole proprio ci ha preso male quindi sono venuto qua in ufficio purtroppo ho un'ispezione fra un'ora e mezza e quindi non posso mancarla poi dopodiché dopodiché posso andare a casa e riposarmi un pochettino quindi oggi ragazzi il video sarà molto breve se riesco a riprendermi magari cercherò di fare qualcosa in più pensavo di fare una live oggi ma proprio non ci sono non ci sono quindi un bacio grosso grazie ancora per tutti cercate di capire presto arriverò con un mega video ciao bacio ciao un mio cliente fantastico anzi capitan alex non so se vedete la cosa si chiama lo show below deck non so se è in italia e quindi lui è stato nella prima stagione ed è un carissimo carissimo amico facciamo sacro di cose insieme e quindi non stavo bene è andato a comprarmi questo non so anche come si chiama è un creation tutto a livello naturale questo è questo anche praticamente ti libera dal raffreddore cazzi e mazzi e feel better questo è un colore un po' strano amico di fare libero al volo su tutti i prodotti naturali quindi non medicina lui dice che praticamente non prende più medicina e ora proviamo e poi vi faccio sapere molto più veloce di farlo veramente veloce oh my god it's good oh fucking hate oh god damn c'è cipolla 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 rossa porca puttana c'è cipolla rossa c'è grazie Alex ora vediamo come va ok, ciao che botta mi sta prendendo proprio alla grande adesso sto andando a casa a buttarmi un po' e come immaginavo quella stronza del rispettrice non è venuta e l'ha rimandato a martedì prossimo grazie mille hai visto sapevo io, sapevo che sapevo che c'era che lo rimandava a sta stronza è così, d'altronde è così che bontana è sto sto proprio ho provato anche l'altra medicina gialla ma non mi ha fatto un cazzo ancora non mi ha fatto niente quindi mi ha preso proprio male ho la ho i kill le pelle d'oca e le sento freddo mi sto fuori con la maglietta che culo e quindi allora ragazzi vado a casa mi metto sotto le coperte per un'unetta vediamo se riesco a ripigliarmi buongiorno ok quindi purtroppo abbiamo avuto un giorno di influenza io e Nicole ci stiamo appena riprendendo e scusatemi se ho saltato un giorno ma purtroppo ho passato ieri tutto il giorno a letto avevo una febbre altissima e Nicole ancora ancora adesso non sta un gran che bene ma oggi è sabato quindi oggi è sabato e abbiamo la compagnia che sta arrivando a prendere il tutto siamo pronti siamo veramente pronti quindi vi faccio vedere due cose ok tutti i scatroni tutto pronto per andare ci siamo sono emozionato vai questa è la camera delle bambine pronta tutta impacchettata pronta per andare anche lei è arrivato il momento non mi sento non sono ancora in forma al 100% scusatemi ma veramente è stata l'avvazzata incredibile ha un'influenza pazzesca ha avuto gli ultimi due giorni veramente veramente a pezzi ma ci siamo dai sono contento ok cominciamo vai boom la zina in transocchio è qui e ora cominciamo sto molto meglio molto molto meglio andiamo 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 piano piano il processo sta andando alla grande scatolone sta andando via televisione è andata qua si sta svuotando tutto wow incredibile quanta roba c'è in una casa è triste mi sento un po' no triste vabbè comunque questa casa ha molti ricordi ha molte molte cose che sono successe quindi ho conoscito Nicola prima volta ovviamente siamo noi ci siamo spostati qui a vivere lei viveva già qui quando io ho conosciuto Nicola quindi mi sono mi sono trasferito qua con lei quindi sai questo appartamento ha molte molte ricordi litigate momenti bellissimi quando abbiamo parlato le nere in Emilia quando erano piccole un sacco di feste un sacco di cose quindi è un momento sono sette anni quindi sette anni di vita in questo posto quindi è triste ma allo stesso tempo comunque si sta aprendo un capitolo nuovo un capitolo totalmente nuovo e quindi siamo contenti esaltati ma è strano strano veramente vai andiamo avanti vai ok ragazzi sono sono tornato giù alla casa ad Elkia per controllare se tutto è andato adesso ora devo tirare giù questo lampadario sarà un problema perché è tutto è un casino e quindi niente ci sono ancora due cosine da portare via queste questi quadri e questo lo doniamo da qualche parte piccole cose la camera è vuota wow 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 pazzesco pazzesco oh vedi mi sono dimenticati anche i vasi fuori ah ecco lì vanno portati su anche loro vai ciao quindi come primo giorno di non lavoro di casa nuova sono qua in marina e devo aiutare a far parcheggiare un 80 piedi e a Vietor finalmente arriva in marina ok ora vi faccio vedere come si fa vai ciao vedi che ragazzi lui è il mio uomo sui pontini say ciao 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 allora va a crash no vabbiamo 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 questa è stata buona è andata bene ah no vabbiamo vabbiamo tell them i said i gotta be honest with you that was very impressive Monty oh thank you i thought you're gonna crash somewhere vai keep it up Monty sorry it took you so long i mean um no it's fine no problem you took the Ducati here yeah e ora stiamo entrando è qualcosa di impressionante ragazzi what the hell holy shit questo è un motore la turbina wow ragazzi che spettacolo quindi la barca non è ancora non è stata pulita o comunque preparata in questo momento ma è qualcosa di impressionante ragazzi wow questo è cockpit quindi visuale veramente limitata wow unbelievable guarda che sedia guarda che spettacolo wow questa è proprio una barca veramente interessante andiamo a vedere un po' cosa c'è qui qua c'è una una stanza che era media una stanza media room più o meno con la televisione due divani e questa è la cucina questa è la galley wow impressionante anche qua incredibile questa è la qui c'è una camera oh my god it's crazy guys questa è la camera principale devo dire che è proprio interessante questo penso sia un bagno oh yeah holy shit questa è la doccia bagno wow impressive impressionante ragazzi questa è una vecchia barca della guerra mondiale ristrutturata da niente è veramente particolare qui si va engine room wow how's the engine ah it's good it's good very hot right now no licking nothing there you go yeah e quindi tutto basso qua devi stare attento quando schiocchi la testa wow it's impressive oh ok wow there's only one room yeah oh that's more oh you see it right here no oh shit ci sono altre stanze non è che esiste holy moly that's a captain questo è il capitano dove dormono captain room captain room what else more where c'è un'altra oh c'è un'altra stanza non sapevo tutto bassissimo oh wow what's that bar oh oh wow drinking party you know questo è il bar wow that's interesting yes it's cool and we're on the next project wow interesting ah è fantastico grazie per il tour yeah veramente impressionante ragazzi devo proprio dirvelo sopra c'è l'heliporto questo è un piccolo elipad per l'elicottero l'helipad per l'elicottero wow wow this is very impressive ok thank you andiamo dalla guardia costiera che è praticamente una specie di formula 1 incredibile chiusura 5 3 punti per non volare fuori sospensioni bracci wow this is sospensioni wow get out of here sicuramente lo proveremo futuro presto wow incredibile questi sono 225 sono 450 cavalli questo è completamente portato d'acqua quindi si può ribaltare e praticamente non c'è nulla teoricamente si ritorna al posto da sola italiano italiano sei ciao che capisci di italiano eh Arno di 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 scusate sei ciao i primari oh Arno ciao Arno Arno è un grande amico a Messiasia e lui è il primo lavoro che ho fatto il primo lavoro è dire di portare il tuo bar da Messico abbiamo molto divertito 5 giorni 5 giorni con Arno in barca questa è la sua barca un Johnson 70 un grande capitano un grande capitano e praticamente abbiamo un grande amico e praticamente abbiamo speso 5 giorni in Messico perché mancava una parte we missing a parte remember eravamo parcheggiati in un hangar in un hangar e non e pia o sai we pia off the top of the big hangar è stato bellissimo grande grande uomo ciao ciao Arno Arno è arrivato in marina e anche la nera nebbia molto bella fantastica e questa è la sua macchina tranquillo tranquillo ora e a dopo ciao sorpresa ecco che arriva è arrivato in marina è arrivato in marina ho inventato un trasloco moderno questo sarà il mio trasloco il mio mezzo di trasloco moderno questa è la nuova zona dei traslochi fast and burgers stavo facendo vedere che questo lampa d'aria era un casino trasportare perché tutti questi filamenti si vanno a ingruppare qui ho trovato uno scatolone della candeggina praticamente la sesta misura del centro l'ho messo dentro nella pallina solo dentro e questo è sospeso e mi è dato di culo o sono un genio mi è dato di culo mi sa che mi è dato di culo a dopo il sistema di trasporto la segue funziona benissimo e nel 20 minuti soltanto ho provato giù tutto questo non male non male devo scrivere una una mail a segue dire e ragazzi questo funziona alla grande il Gio è qui è arrivato a trovarmi in marina finalmente il Gio è qui finalmente è venuto a trovare dopo sette giorni dopo sette giorni a momenti mi ammazzo il Gio è venuto a trovarmi e ora mi ammazzo con il segue questo l'avete visto in diretto ragazzi e meno me non lo taglio lo faccio vedere questo che a momenti mi ammazzo cazzo no sei impallato portami un braccio perché siete giorni senza guantarsi perché sono stato a las vegas non andare più a las vegas infatti ma dai che fa sempre venuta a magniaccio non andare più non andare via sette giorni senza di me a las vegas è chiaro e per questo progetto non andare a las vegas senza me vincere 3-4 milioni dollari perché mi incazzo ancora di più perché quando sei partito mi ricordo questo è importante ragazzi quando sei partito ho detto ti do 50 dollari in me li punti rimacori che ti do 50 dollari in live hai ragione ragazzi qua Enrico è un nostro fans che abita qua vicino praticamente nel palazzo dove abitavo quindi lui stavo guardando un video di Alessio poi Alessio è andato è andato su Gio e da Gio è praticamente ma l'ha rovinato bene e fa andarlo su Gio ok vabbè si prima lui si ah quindi è venuto prima me e poi Gio quindi mi devi un subscriber te lo dà Alessio Alessio e qui Alessio dove sei Alessio se ci stai ascoltando facci un colpo metti il pollicino in giù come sempre perché Alessio si fa riconoscere dal pollicino in giù e poi perché Alessio c'è Alessio c'è no domani tutti Alessi sono quindi Enrico è venuto trovarci io sono ancora nel ballo di Trasocco anzi non Trasocco ma tutti i miei giocattoli non voglio che nessuno tocca i miei giocattoli quindi non usiamo se no mi regalavi qualcosa io gli ho offerto una macchina di caffè non la vuole gli ho detto fai questo caffè poi dici che non la vuole ma no che quello non lo uso non bevo latte quindi no al caffè non c'è latte ho capito ma quella è fatta per fare cappuccino a meno che non fai il caffè latte cappuccino hai andiamo su un attimo che devo prendere due cose ma c'è qualche altro giocatore vieni andiamo vieni Enrico andiamo Enrico non ti preoccupare noi qua abbiamo abbiamo eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee qua siamo aperti al mondo tutti quanti sono tutti gli italiani sono una grande famiglia qua noi non buttiamo via nessuno son contento che non ci vado a trovare era un po' in pensiero magari è rabbiato con me magari non vuole più vedermi magari è triste perché perché yeeeeeee non lo so non mi vede più devo fare una puzzetta devo fare una puzzetta devo fare una puzzetta ho solo bisogno di farlo ragazzi sorry ma che cosa ti stai diretti nella prima volta? oia mamma mia mi sono spaventato sorry come stai facendo? bene non buono hai capito? hai capito? cioè lei da 12 anni non è 12 anni il Gio mi ha messo di buon umore se devo essere sincero il Gio mi ha messo di buon umore sono contento che è passato a robarmi se no mi arrabbiamo Gio e ora con i nostri e ora con la nostra tecnologia e ora con la nostra tecnologia facciamo aprire Gio il Gio il Gio BOOM vorrebbe essere una carina questa hai visto che tecnologia la tecnologia è buon il grande fratellino che è arrivato finalmente qui sette giorni di te sette giorni di te di me quindi gli ho detto non mancare più sette giorni perché sennò ti vengono a trovare a Las Vegas e però dai ho avvito 4.000 dollari anzi 4.300 dollari giocando 20 dollari e sono una persona che non gioca mai quindi io do una bella palpatina perché la prossima volta no perché un ragazzo mi ha scritto ma scusa hai vinto 4.000 dollari ma nella tua vita quanto hai giocato io in gioco mai perché qui è illegale quindi quindi ho puntato 20 dollari e poi li sono andati di botto cioè proprio un culo pazzesco comunque Gio è qua è molto a trovarci salutiamo Enrico ciao Enrico è un grande tifoso a Roma no no lo butto lo butto in mezzo all'oceno calcio in zero ah è calcio in zero calcio in zero è neutrale è neutrale vai ragazzi un bacione a dopo ciao ciao sono al garage non vi faccio vedere dentro quindi qui ora stiamo sistemando il tutto questi sono scatoloni di cose che abbiamo comprato questo sto sistemando il tutto piano piano tranquilli che dentro è peggio dentro la casa è peggio ma questo è il tuo andare un piccolo update alla grande quindi due cosine proprio mancano uso l'appartamento domani chiaramente sono in ufficio e vado a finire tutto proprio due cose ah che giornata dura anche oggi ma figata figata ieri è stata la prima notte è stato bellissimo una bella sensazione svegliarsi qui e quindi niente dai ci vediamo dopo ok ciao